E' vero, nel senso che quello che dice Punto Franco è la verità e sono furiosa. Io sono giorni che sono arrabbiata per quanto accaduto. Piccolo passo indietro, necessario per comprendere da un lato l'ira dell'assessore comunale e lavori pubblici Elisa Lodi, ma anche per capire per quale ragione dia ragione alla squadra di Francesco Russo. Pochi minuti prima i consiglieri Pasino, Sclip e Daltina avevano infatti reso pubblica una disattenzione da parte del Comune. E' stata dichiarata la decadenza da un contributo di 3 milioni di euro per interventi di adeguamento antisismico sulla scuola Caprin. In ragione di questo il Comune non potrà contare sul contributo ministeriale dei 3 milioni di euro, ma anche sembra debba restituire 600 mila euro di acconto già ricevuto. Lo stesso problema si pone anche con la scuola Fondassavio e di nuovo anche qui sulla stessa linea di finanziamento un altro contributo da 3 milioni di euro che salta. L'assessore nel caso della Fondassavio, anche con l'aiuto della collega Sandra Savino, è corsa immediatamente ai ripari tappando la falla e con tutta probabilità riuscirà anche a recuperare i contributi per la Caprine. Per quanto riguarda la Fondassavio siamo già riusciti a trovare un canale di finanziamento di 3 milioni di euro. Attraverso il ministero sono riuscita quindi a trovare questi spazi finanziari per la messa in sicurezza dei edifici. Per la Caprine invece sto spingendo con la regione per ottenere anche qui il contributo per poter poi avviare il cantiere. Sta di fatto che io non mollo, fin tanto che non vedo avviare il cantiere non sarò contenta. Punto Franco sottolinea comunque una sorta di preoccupazione anche preventiva. L'assessore Lodi dal canto suo si prepara ad una doppia redderazione con i suoi uffici. C'è un dato di fatto che questi contributi sono stati persi e che al di là degli altisonanti annunci di avanzi che ancora non ci sono perché il bilancio non è stato approvato, fondi PNRR e quant'altro, c'è il dato che il Comune rischia di perdere i contributi come è successo in questo caso. Fratelli d'Italia chiede una riorganizzazione del Dipartimento, una riorganizzazione che veda soprattutto un incremento di personale come già richiesto nella passata consigliatura. Al di là di questo ho chiesto agli uffici di essere rendi contata quotidiamente, se non mensilmente, sulle scadenze di tutti i contributi che siano statali o regionali.